E' l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Buonasera e buon ascolto. Continua il fuoco incrociato sulla nomina del quinto assessore. Il centrodestra raccoglie le adesioni del Movimento 5 Stelle e di costruire democrazia che predispongono le barricate, mentre Oreste Campopiano chiede le dimissioni dal Consiglio degli Assessori. Ci dice tutto in apertura Giovanni Minicozzi. In vista della riunione del Consiglio regionale già fissata per sabato 1 giugno, continua lo scontro a distanza sulla nomina del quinto assessore. Le minoranze, compreso quella del Movimento 5 Stelle, hanno votato la mozione presentata dal centrodestra e bocciata dalla maggioranza che chiedeva di promulgare subito il nuovo statuto per limitare a quattro i componenti dell'esecutivo. Si è schierato con il centrodestra? No, ci siamo schierati con la legalità e con l'opportunità politica di fare certe cose. Noi crediamo che lo statuto vada promulgato perché è un atto dovuto, lo abbiamo spiegato più volte in commissione, più volte sul nostro blog, anche ribadito qui in aula, perché crediamo che ci sia una manovra da zecca garbugli per riuscire ad allargare la giunta a 5. Non andiamo insieme al centrodestra che ha fatto anche di peggio in questi dieci anni. Noi vogliamo che ci sia un cambiamento reale. Se il cambiamento deve cominciare da un atto del genere, crediamo che la strada sia quella sbagliata. E questo percorso nasce anche due mesi fa con la nomina della giunta, con la nomina di un assessore esterno, con le scelte fatte per privilegiare gli equilibri politici. E ancora oggi continuiamo a parlare di equilibri politici. Per questo ci siamo schierati contro questo tipo di manovra. E per questo usciremo dall'aula quando si dovrà approvare quella legge di abrogazione della legge 21 che definisce a quattro non gli assessori, perché da un punto di vista formale e giuridico è una legge che nasce morta, perché va a valere sullo statuto. Dall'altro perché crediamo che ci sono questioni molto più urgenti di uscutere in aula. Il primo dei non eletti della lista Unione per il Molise, Oreste Campopiano, invece, ha sollecitato le dimissioni dal Consiglio degli Assessori Regionali per una più incisiva funzionalità delle istituzioni. La riduzione del numero dei consiglieri da 30 a 20 rischia di creare un cortocircuito tra maggioranza e minoranza, detto Campopiano, ricordando al Presidente Frattura che nel corso dell'ultima campagna elettorale anche lui era dello stesso parere. Insomma, seppur garbatamente, Campopiano ha sollecitato Frattura a rispettare gli impegni assunti prima del voto. D'altra parte, per poter entrare in Consiglio regionale, l'Avvocato Termolese deve far liberare la poltrona attualmente occupata dall'assessore Vittorino Facciolla, primo e unico eletto della sua lista. La Regione Molise e il Comando regionale della Guardia di Finanza hanno firmato un protocollo di intesa per gestire il controllo dei finanziamenti dei fondi comunitari. È necessaria oggi la collaborazione tra le istituzioni per sensibilizzare il territorio, ha detto il Presidente Paolo di Laura Frattura prima della firma. Questa intesa con la finanza ci consentirà inoltre di prevenire eventuali infrazioni nella distribuzione dei fondi comunitari. Con il rinnovo di questo accordo esistente da alcuni anni, ha commentato poi il generale Fernando Verdolotti, cercheremo di migliorare la qualità dei controlli sui fondi erogati dalla Regione e lavoreremo anche al recupero di eventuali fondi elargiti indebitamente. Alla firma del protocollo era presente anche il colonnello della Guardia di Finanza di Campobasso, Luca Andrea Buffoni. Cambiamo argomento, cambia il neoeletto Consiglio Comunale di Isernia. Per la lista dell'Udeur, infatti, è emerso che a causa del riconteggio delle preferenze e dei successivi controlli, non entra Remo Castiello, ma Ida Sassi, seconda eletta, insieme a Cosmo Galasso. E dopo i numeri e i calcoli, gli eletti a Palazzo San Francesco hanno ottenuto l'investitura ufficiale. Oggi a Isernia è stato proclamato sindaco Luigi Brasiello, che come saprete ha ottenuto la vittoria senza dover passare dalla coda del ballottaggio. Sentiamo cosa ha detto a Enzo Di Gaetano. Noclano eletto alla carica di sindaco del Comune di Isernia, il signor Luigi Brasiello. La rituale formula del giudice Andricciola, presidente della Commissione elettorale di Isernia, ha aperto la cerimonia di proclamazione del nuovo sindaco del capologo Pentro. Luigi Brasiello succede così a Ugo De Vivo, dopo un lungo periodo di commissariamento. Nell'aula consigliare di Palazzo San Francesco, una vasta delegazione dei consiglieri eletti dal centro-sinistra, del comitato elettorale di Brasiello e dei dipendenti del Comune. E il nuovo sindaco di Isernia, indossando la fascia tricolore, si è impegnato a dedicare subito tutto il suo tempo all'importante incarico, che è stato chiamato a ricoprire. Non ci saranno tempi morti. L'amministrazione Brasiello è già cominciata. Ma intanto oggi mi sembra un passaggio, anche se formale, importante. È un passaggio che va fatto, rispetto al quale ho anche un attimino di emozione, insomma, cercate di comprendermi. Certo, poi ci saranno le cose serie da affrontare, in primis credo appunto la costituzione di una squadra che possa essere coesa e possa pensare ai problemi di questa città. Sto valutando diversi aspetti, vedremo nei prossimi giorni le decisioni che meglio si potranno prendere. Lei può scegliere tra 4 e 9 una formula? Qual è la formula dell'esecutivo Brasiello? Ma io non mi sono posto tanto il problema del numero, se 4 o 9. Ho pensato ad una serie di caratteristiche che le persone che andranno ad amministrare questa città dovranno necessariamente avere. Quindi competenza, capacità, numero di voti espressi e soprattutto disponibilità nei confronti dei cittadini. Ecco, tra queste cose noi sceglieremo quelle persone più adatte a governare. Poi non è un problema se saranno 4 o 9. L'importante è un'altra cosa, andare a coprire tutti i settori della città che in questo momento hanno bisogno di essere amministrati seriamente. Un paio di decisioni prese dalla Filippi che hanno testato una specie di rivoluzione sociale ai Sena. Quello dell'asilo chiuso e quella delle sattorie. Insomma, lì provvederà subito a fare qualcosa, Sindaco? Ma io non ho parlato ancora con la dottoressa, con la Filippi. Ho saputo di queste decisioni prese in extremis. Credo che sono decisioni che vanno perlomeno rivalutate di vista. Io ho questo impegno che prendo con i cittadini di Sernia su alcune decisioni rispetto alle quali, insomma, se potrò fare qualcosa di diverso, perché no? In vista della nuova stagione saccarifera che partirà a fine giugno, la Regione, su richiesta dei sindacati, ha aperto un tavolo tecnico sullo zuccherificio. Ce ne parla ancora Giovanni Minicozzi. I vertici dello zuccherificio, i rappresentanti dei lavoratori e gli assessori Vittorino Facciolla e Michele Petraroia, in vista dell'avvio della imminente campagna saccarifera, hanno aperto, su richiesta dei sindacati, un tavolo tecnico per fare il punto della situazione. Come è noto c'è una procedura in corso, c'è un bando, c'è stata al momento una risposta da parte di una multinazionale olandese, l'assessore all'agricoltura, l'assessore alle attività produttive stanno seguendo anche l'evoluzione in rapporto con gli organi della procedura. L'interesse della Regione è salvaguardare la filiera bieticolo-saccarifera perché questo è l'unico impianto di trasformazione del centro-sud e offre tante opportunità non soltanto al Molise ma a tutte le regioni con termini del Mezzogiorno. C'è da risolvere ancora il problema degli avventizi? Ma diciamo che su questo argomento rispetto allo scorso anno registriamo che c'è stata la disponibilità da parte della NUCO e su 35 unità ne sono stati già richiamati al lavoro 28-29 e si tratterà di continuare ad affinare se ci sono ulteriori possibilità ma mi pare di cogliere che l'obiettivo di tutti delle organizzazioni sindacali di quelle datoriali, in particolare alla filiera agricola c'è la volontà e l'impegno a collaborare per salvare e rilanciare lo zuccherificio. L'assessore al lavoro ha anche preannunciato che presto si terrà a Roma un tavolo tecnico nazionale già sollecitato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Patroni Griffi, insieme all'onorevole Sabrina De Camillis in quella occasione, ha detto Petraroia, affronteremo tutte le emergenze del Molise legate al settore tessile, alla filiera vicola e saccarifera al settore metalmeccanico e alla sanità. I 55 dipendenti della Fisiomedica Loretana di Toro che avanzano ancora tre mesi di stipendio hanno chiesto un incontro urgente al Presidente della Regione Paolo Frattura Vogliamo che si risolva questa situazione di disagio economico e contrattuale hanno detto, altrimenti il 20% del personale sarà licenziato I lavoratori hanno anche annunciato un presidio sotto la sede della Giunta regionale in Via Genova a Campobasso nel caso la questione non si risolva in tempi brevi Parliamo adesso di un'altra azienda molisana in crisi del settore metalmeccanico è la RZ di Guardiareggia sono 70 i lavoratori per i quali sta per scadere la cassa integrazione hanno ottenuto una proroga di tre mesi ma è necessario trovare un acquirente per l'impresa chiusa da un anno per sperare nel futuro oggi l'incontro all'assessorato al lavoro ce ne parla Tonino Danese Da un anno la RZ di Guardiareggia è chiusa e 70 i lavoratori sono in cassa integrazione cassa integrazione che scade il 31 maggio per loro il futuro è diventato nero vogliono avere qualche spiegazione e sapere cosa accadrà dal primo giugno e lo hanno chiesto in un incontro nell'assessorato al lavoro c'era una delegazione dei lavoratori dell'industria che produce materiali in ferro da 30 anni i rappresentanti sindacali l'assessore Petraroia è stato deciso che per altri tre mesi sarà prorogata la cassa integrazione Gli incentivi messi a disposizione da fondi europei è un bando d'asta con il vincolo di riassunzione di tutte le unità produttive come avvenute in un certo senso come geomeccanica a Venafli quindi abbiamo trovato una soluzione tampona per delle verifiche di eventuali possibili acquirenti futuri con un bando d'asta con l'apertura di un bando d'asta da parte del commissario liquidatore quindi in questi tre mesi dobbiamo essere tutti positivi e propensi a trovare delle soluzioni e non trovarci come oggi a distanza di due giorni con una mobilità alle spalle Ecco, c'è qualche acquirente all'orizzonte che lei sa? L'acquirente c'era mesi addietro però a oggi non c'era nessun acquirente oggi abbiamo deciso di creare anche le condizioni perché gli acquirenti difficilmente con questa crisi si trovano e sono propensi a rilevare stabilimenti in crisi Insomma è necessario creare le condizioni perché qualcuno compri l'azienda così che possa tornare a produrre riassorbendo gli operai alcuni dei quali vi lavoravano da oltre 15 anni La speranza è la solida quella di rimettere in moto un'altra volta l'attività produttiva di questa azienda è una bella realtà e Molise è la seconda azienda metameccanica di Molise Botta e risposta tra il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile e il presidente Paolo Frattura sul rimborso ai comuni per la forte nevicata del febbraio 2012 Gian Russo ha fatto sapere che dopo numerosi solleciti ha ottenuto dalla regione 1 milione e 100 mila euro a suo tempo assegnati dal Dipartimento nazionale e trasferiti a 66 comuni che avevano presentato completa e corretta rendicontazione relativa allo sgombero neve Gian Russo inoltre ha chiesto alla regione di anticipare le somme mancanti agli imprenditori e ai comuni interessati come previsto da un apposito capitolo di bilancio approvato dal Consiglio regionale lo scorso anno immediata la replica del presidente Frattura la regione ha trasferito all'Agenzia le somme assegnate dal Ministero non certo per i solleciti fatti dall'architetto Gian Russo ha dichiarato il presidente ma perché agisce con modalità e tempi dettati dalla legge l'architetto Gian Russo confonde ha aggiunto Frattura gli obblighi di un'amministrazione pubblica verso cittadini e imprese con protagonismo e autoreferenzialità fini a se stessi di cui non si avverte davvero l'esigenza le risorse trasferite da Roma per la nevicata del 2012 sono state subito assegnate all'Agenzia lo scorso 30 aprile ha specificato il presidente la restante somma pari a circa 850 mila euro sarà accreditata appena la riscuoteremo dal Ministero ha concluso torniamo alle elezioni di domenica e lunedì a Larino e Guglionesi nei nuovi consigli comunali quattro eletti su dieci sono donne nei comuni ha fatto il debutto infatti il sistema della doppia preferenza Manuela Iori nei nuovi consigli comunali di Larino e Guglionesi il dato che salta più all'occhio è la presenza delle donne a Larino su dieci consiglieri quattro sono in quota rosa la novità è stata favorita dal sistema della doppia preferenza che in queste elezioni ha fatto il suo debutto nei comuni sopra i 5 mila abitanti proprio per riequilibrare la rappresentanza femminile all'interno delle istituzioni e in tal senso il risultato è stato portato a casa a Larino solo in maggioranza ci sono tre donne tra cui c'è anche la più votata in assoluto Assunta Dermes, 33 anni che ha ottenuto 611 preferenze le altre sono Mariangela Biscotti e Maria Libera Petriella sono stati eletti anche Michele Palmieri Michele Di Carlantonio Stefano Mancinelli e Nicola Vitulli rappresentano la nuova maggioranza insieme al neosindaco Vincenzo Notarangelo tra i banchi della minoranza oltre al candidato sindaco sconfitto Michele Urbano siederà anche Giulio Pontico e Rossella Mammarella anche lei giovane, 31 anni e alla prima esperienza situazione speculare a Guglionesi dove sono state elette quattro donne tre in maggioranza e una in minoranza al fianco del sindaco riconfermato Leon Tonacci siederanno Filomena Somma Maria Scardocchia, Gigia, Ciarallo eletti anche Gianfranco Del Peschio Giuseppe Guglielmo, Nicola Bucci e Antonio Lucarelli in minoranza insieme allo sconfitto Cloridano Bellocchio la più votata della lista Marinella Di Carlo e Pino Aristotile e ora con Sergio Di Vincenzo conosciamo i nuovi sindaci degli altri tre comuni della provincia di Isernia dove si è votato Montaquila, Sessano e Poggio Senneta Vittoria al foto finish a Montaquila gli elettori hanno deciso di dare nuovamente fiducia al sindaco scente Francesco Rossi 892 voti sono stati più che sufficienti per avere la meglio su Gregorio Perna che ha comunque incassato 839 consensi Ricominceremo sicuramente da una riorganizzazione dei servizi comunali e poi dobbiamo continuare ancora questo grosso impegno che ci siamo presi in questi anni di ristrutturare tutto il paese in pratica i centri storici opere pubbliche diverse il parco fogliare l'oase naturale e tante altre opere che sono in corso noi abbiamo speso in questi 5 anni 4 milioni e 200 mila euro in opere pubbliche continueremo su questa strada anche riorganizzando il plesso scolastico che abbiamo reso unico all'interno di tutto il comune e con un ampliamento anche con biblioteca piscina, palestra quindi che sia a servizio anche di tutta la Valla del Voltovista a Sessano del Molise è chiusa la parentesi del commissario il nuovo sindaco Giuseppe Di Polito ha ottenuto 308 voti contro i 251 di Giovan Carmine Mancini è stata una campagna centrata su obiettivi ben precisi io ho due progetti che ho già presentato e illustrato ai miei amici a tutti quelli che mi hanno dato fiducia io credo una cosa che noi dobbiamo investire in progetti che portano un ritorno economico al Paese le strade sono importanti le fognature sono importanti la rete idrica e tanti altri problemi il cimitero però sono sempre interventi fini a se stessi noi dobbiamo creare le condizioni per cui l'economia di questo Paese rinasca dobbiamo creare le condizioni per cui la gente deve venire in questo Paese solo così potremmo riaprire tutte le case sfitte potremmo aprire qualche ristorante potremmo veramente sviluppare un'economia che già anticipo è centrata tutta sul turismo e sulle energie rinnovabili Appoggio Sannita ha vinto una donna Maria Antonietta Bottaro già leader della minoranza ha vinto agevolmente sul suo avversario 328 voti contro i 181 di Franco Paoletti questo comune diventerà di tutti i cittadini perché è stato sempre il mio sogno che il cittadino è al centro della mia attenzione perché il comune è nostro ma come cittadino secondo me il sindaco deve essere un buon padre di famiglia e i figli di un buon padre di famiglia sono tutti uguali e il buon padre di famiglia deve procurare per la sua famiglia qualsiasi cosa deve fare il possibile per il bene della sua famiglia e Poggio e i miei cittadini sono la mia famiglia mi dimetto dal consiglio comunale di Campobasso per correttezza e lealtà nei confronti dei cittadini lo ha detto il consigliere regionale dell'Italia dei Valori Carmelo Parpiglia che lo scorso anno aveva già rinunciato alla doppia indennità al suo posto è entrato a Palazzo San Giorgio Tommasino Iocca intanto il consiglio comunale è tornato a riunirsi oggi la maggioranza ha respinto la pregiudiziale del PD e del consigliere dell'Udc Ambrosio per chiedere una nuova convocazione dell'assise approvata invece la delibera consigliare per l'ingresso di Perrella al posto di Gesualdo del PDL e di Santone al posto del neoassessore Mucci di Progetto Molise il Partito Democratico ha presentato in Parlamento una proposta di legge costituzionale per la trasformazione del sistema politico istituzionale dalla forma di governo parlamentare a quella semipresidenziale tra i primi firmatari c'è anche il deputato molisano del PD Danilo Leva si tratta spiegato Leva di un intervento profondo che cambierebbe l'architettura istituzionale del paese è un provvedimento ha aggiunto il deputato che consente la partecipazione diretta delle persone alla vita pubblica evita la frantumazione del sistema politico e soprattutto a concluso esalta il ruolo dei cittadini e dei territori congresso regionale a termoli della confesercenti all'ordine del giorno la crisi del settore ma anche il nuovo direttivo ancora Manuela Iori crisi del settore proposte di rilancio ma anche elezione del nuovo direttivo questi temi caldi del congresso regionale della confesercenti che oggi si è tenuto a termoli al centro della discussione la grave crisi che ha investito il commercio e che Molise ha portato solo nell'ultimo anno alla perdita di 3.000 posti di lavoro in città il caso più eclatante è stato la chiusura del Carrefour con 55 dipendenti diretti licenziati e altri 30 dell'indotto che sono rimasti senza occupazione dal congresso è emersa la necessità di mettere in campo strategie per rilanciare il commercio la crisi ormai è il problema che ci avvilisce continuamente e quindi lo teniamo sempre in considerazione vorremmo con questa nuova struttura con questo nuovo direttivo metterci a confronto con i politici e vedere seriamente di trovare un punto di incontro un punto di ripartenza perché noi siamo disponibili a non abbandonare la rotta e quindi vogliamo continuare sulla linea costruttiva per gli imprenditori quindi commercianti artigiani insomma il piccolo imprenditore ha bisogno insieme a noi di portare avanti un obiettivo e noi ce l'abbiamo che appello si può fare alle istituzioni? le istituzioni devono soltanto starci vicino perché io credo che loro soli non sono in grado di trovare delle soluzioni e così noi da soli senza lavori non riusciamo a trovare nessun tipo di soluzione invece insieme credo che è il momento è il momento da tempo che ci prodighiamo e siamo disponibili a un incontro serio e costruttivo e il congresso della Confesercenti si è concluso con la conferma del presidente Salvatore Migliaccio mentre sono stati nominati come vice Matteo De Santis Giuseppe Montesanto e Pasquale Oriente come presidente onorario è stato eletto invece Antonio D'Ambrosio la capitaneria di Porto di Termoli in un blizz alle isole Tremiti che è scattato ieri mattina ha sequestrato 100 ormeggi senza autorizzazione e denunciato 22 persone l'inchiesta della procura di Foggia è durata due anni ed è partita dalla segnalazione di ignari di portisti che lamentavano pressanti richieste di denaro da parte di abusivi la difficile condizione dell'infanzia è stato l'argomento dell'incontro organizzato dall'Unicef Molise che si è svolto nell'aula magna dell'università di Campobasso il governo dovrebbe tutelare le situazioni più complicate ha detto Vincenzo Spadafora autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza c'era per noi Marcella Tamburelli tutti i bambini nelle loro differenze e diversità nutrono sogni e speranze e tutti loro meritano di realizzarli e questo è l'obiettivo dell'Unicef che da anni combatte al fianco dei più giovani per garantire parità di trattamento nel mondo purtroppo milioni di bambini e adolescenti subiscono ancora discriminazioni e maltrattamenti il trend negativo è salito anche in Italia per sensibilizzare la popolazione l'Unicef sta promuovendo una serie di iniziative per la settimana dedicata al Corpus Domini dopo un torneo di calcio dedicato ai bambini delle scuole elementari di Campobasso la promozione delle pigotte e dei misteri che potranno essere adottate con un piccolo contributo anche un incontro dal titolo Il diritto di essere accorti al quale ha partecipato Vincenzo Spadafora autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è una situazione difficile nel nostro paese ormai c'è un livello di povertà materiale ma anche culturale altissimo si parla di 2 milioni di bambini che vivono in famiglie povere 800.000 in famiglie poverissime e noi oggi qui in Molise trattiamo in modo particolare tutte quelle situazioni che riguardano soprattutto i minori stranieri presenti nel nostro paese e quindi tutta la difficoltà che c'è anche negli affidi nell'inserimento della nostra comunità credo che sia il momento che il nuovo governo il nuovo Parlamento prendano davvero dei provvedimenti urgenti perché credo che altrimenti a rimetterci non saranno soltanto i bambini e i adolescenti ma il paese intero La stessa regione Molise da alcuni anni sta promuovendo una serie di direttive per garantire l'affidamento dei minori che purtroppo vivono in condizioni disagiate situazioni queste che devono essere tutelate nel miglior modo possibile Concretamente cosa si può fare per aiutare l'infanzia oggi? Innanzitutto aiuti alle famiglie perché questo livello di povertà il nostro paese non lo vedeva ormai da decenni e poi risolvere anche con delle leggi nuove alcune cose che sono molto spesso alla base di tanti fatti di cronaca che noi vediamo Le istituzioni in primis devono collaborare tra di loro per aiutare l'infanzia Certo la rete è sempre il sistema migliore per poter fare bene le cose e la rete vuol dire far dialogare innanzitutto il governo nazionale con i governi locali soprattutto per definire le priorità perché è vero che ci sono poche risorse ma molto spesso capita anche che le risorse vengano utilizzate male perché appunto non c'è una rete non c'è un coordinamento tra coloro che devono decidere e questo però è un ruolo che come garante svolgeremo volentieri cioè quello di rispetto dei ruoli tentare di indirizzare sempre di più le scelte dei governi sia a livello nazionale che a livello locale Al ventitresimo Salone Internazionale del Libro di Torino la Fondazione Potito di Campobasso ha mostrato un video in 3D dal titolo L'essenziale è invisibile agli occhi si tratta di una galleria tridimensionale di esami radiologici ideati dalla dottoressa Iole Antinolfi e presentata dalla Fondazione in occasione del Centenario del SIRM la Società Italiana di Radiologia Medica anche in Molise Cantini Aperti ha catturato la curiosità di moltissimi visitatori che hanno potuto trascorrere una giornata tra vigneti botti e bottiglie una nostra troupe è stata alle masserie flocco di Porto Cannone e sentiamo il servizio i francesi parlano di terroir ma anche qui da noi il territorio è qualcosa di più del semplice terreno da cui i vitigni traggono le proprie note fruttate o decise il vino è qualcosa che racconta di sole di brezze marine di escursioni termiche o di stagioni particolarmente calde tutto questo diventa gradazione alcolica profumi gradevolezza al palato ma non solo e per scoprire quale mondo c'è dentro una bottiglia cantine aperte è sicuramente l'occasione più giusta si conoscono i produttori uomini di vigna di cantina di esperienza ma anche un territorio affascinante una sorta di mare verde di vigneti siamo a Porto Cannone e le masserie flocco hanno voluto accogliere gli ospiti di questa giornata a porte aperte nel migliore dei modi stamattina ho ricevuto una telefonata di una signora che mi dice quest'anno cosa fate le masserie dico facciamo serata fino a mezzanotte dice allora è proprio masserie da sempre le masserie di contrata di Fensola hanno puntato alla valorizzazione dei vini che meglio raccontano il nostro territorio ma con un'attenzione anche ai vitigni internazionali che sono diventati una sorta di cavallo di battaglia come il Merlot l'azienda flocco è sempre esistita da mio nonno e con i primi vigneti mio padre è stato fautore dei vigneti poi con l'evento nostro mio e di mio fratello abbiamo creato la cantina le note decise e la gradevolezza al palato sono la firma di sangue di buoi che ha spiazzato le aspettative al suo esordio e ancora oggi raccoglie crescenti consensi il sangue di bue veramente è un qualcosa in particolare io sono un assaggiatore però bevo e mi fa piacere bere però di questo vino sono entusiasta questo è un doc biferno ed è fatto per un 85% da Montepulciano e per un 15% da Aglianico è un vino che fa una parte diciamo del vino fa passaggio in legno ed effettivamente si sente questa nota quasi al naso ora si pensa al futuro con la spinta forte dell'ottimismo della gioia di misurarsi con altri mercati internazionali di proporre con orgoglio il frutto del proprio lavoro racchiuso in una bottiglia abbiamo organizzato delle visite guidate c'è una delegazione russa con due pullman che sono una sessantina di persone verranno a degustare la miglior ricompensa rimane sempre una sentirsi dire solo una unica parola è buono è terminato all'hotel Residence Le Cupolette l'ottavo corso per pizzaioli organizzato in collaborazione con la Conf Commercio ottavo corso per pizzaioli ne parliamo con il maestro Tonino Di Lieto dunque è sempre una soddisfazione sono altri 15 ragazzi che hanno conseguito l'attestato sì dopo 4 mesi è giunto il giorno che faranno l'esame e da domani saranno tutti allievi pizzaioli ecco questi corsi in che cosa consistono? consistono in 300 ore 100 di teoria e 200 di pratica tutti i giorni dal lunedì al venerdì la pratica? pratica tutti i giorni dalla mattina cominciano con la stesura e infornare la pizza dall'impasto alla protezione delle palline e via discorrendo Stefano Narsete si lavora sodo perché sembra facile voglio dire noi ne abbiamo parlato tante volte ma fare una pizza è veramente un'arte sicuramente sì sembra facile ma non lo è appunto ci sono queste 300 ore di corso che permettono comunque ai ragazzi di entrare nel mondo pizza quello che loro fanno è il primo livello che poi li porterà a questo mestiere insomma a fare voi gliel'insegnate a fare in tutti i modi sì cerchiamo di dargli una base ovviamente poi ognuno di loro cercherà la sua strada andare avanti noi cerchiamo di dare il meglio che possiamo fare e ognuno trova la sua strada insomma certamente in questo momento anche economico insomma particolare per l'Italia ma direi per tutta l'Europa questi attestati possono significare anche un inserimento concreto nel mondo del lavoro sì noi abbiamo richieste giornaliere sia in Italia che all'estero e noi cerchiamo di fare del nostro meglio di mettere questi ragazzi sul mercato per creare lavoro diciamo l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise termina qui ed io come sempre vi saluto ringraziandovi perché scegliete l'informazione di Telemolise buonanotte di Telemolise di Telemolise di Telemolise di Telemolise di Telemolise